vai e allora il bello il cattivo tempo ritorno al teatro dei satiri questa volta non solo con barbara foria ma anche con francesca nuzzi claudio insegno e marco semeoli per e che cazzo intanto e che cazzo per cui sessi un po barese e che cazzo un altro music però prima c'è no e sì ma tu vuoi dire qualche cosa vuoi chiederci qualcosa ma intanto se ce lo raccontate al volo allora l'autrice donna non parla di niente guarda non parla di niente veramente è un divertismo qualcuno scusate parliamo una alla volta è un divertismo si dice così in francese perché noi volevamo fare uno spettacolo insieme abbiamo detto parliamo dei problemi degli attori il problema della crisi con la famosa crisi che dicono che noi non troviamo lavoro così tanta gente non trova lavoro abbiamo portato sul palcoscenico un gruppo una compagnia un po scarcinata che viene chiamata da una produzione che non si capisce che produzione è per fare uno spettacolo per bambini e non molto brutto con canzoni veramente brutte c'è una fia brutta inesistenti costumi bruttissimi tutto questo naturalmente noi accettiamo di farlo perché siamo senza lavoro e poi c'è la sorpresa finale che non ti sto dire perché sono due sorprese perché se no il pubblico chi ce li ha più a teatro già non ce n'è nessuno a teatro finiamo pure al finale e finita non è in 3d comunque si può vedere in 2d si può vedere vabbè in 2d così in 4d 4d efficiente allora i personaggi al volo vai francesca io sono Bettina la pecorina io erminio il cane detto anche carmen e nando io sono gino il criceto e che secondo diciamo doveva essere di origine del cansa se poi invece gli viene consigliato di provenire da sacrofante io cassandra la farfalla e una capra è un via distinzione e abbiamo la fortuna che culo questa compagnia di farla fare capito a me ma è un caso che le donne sono ovini i caprini oppure non ci avevamo pensato è un caso è talmente inconscia la cosa non era voluta no 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 benissimo allora l'idea di no 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 io e Francesca però poi voglio dire eravamo tutti d'accordo poi cresce siamo un gruppo siamo un gruppo voglio scaricare le responsabilità siamo un gruppo mentre tanto tempo non c'è un fulcro diciamo in tutto questo non c'è una capra esterna c'è una regia eh c'è una regia diversa c'è una regia diversa Francesca Rienzo noi abbiamo voluto assolutamente in questo gruppo perché avevamo bisogno di un occhio esterno naturalmente l'occhio è anche bello lui ha gli occhi azzurri e poi abbiamo le musiche del maestro Jacopo Fiastra cavolo voglio dire brutte fatte apposta brutte fatte apposta brutte fatte apposta brutte perché è più difficile fare apposta una musica brutta sì ma è molto più sono uno bravo per farlo poi insieme a noi c'è un altro attore che è Marco Maria della Vecchia che ci aiuta che ci aiuta fa un po' da come si chiama sactotum da collante infatti ha fatto anche i costumi giusto giusto allora chi è più rompiscatole e meno rompiscatole perché lui è più rompiscatole Barbara io meno rompiscatole io per niente io sono rompiscatole perché ma nella vita o nello spettacolo nella vita no no io per niente nella vita lui siamo un assoluto nella vita lei per esempio io per niente ma vandala per niente proprio lei puoi stessi giusto di male nella vita no ma non hai uno spettacolo ah uno spettacolo non confondiamo adesso la realtà e io rompiscatole perché ho fatto un certo percorso e quindi praticamente non me la sento in andare a fare queste cose e tu che hai fatto come scuola? mi hai fatto il piccolo e quindi lo ricordo sempre perché ho una certa formazione ho fatto l'accademia e quindi questo musical cat e the cat queste canzoni insomma io ricordo sempre la mia formazione insomma e quindi rompono poche scatole e questo rompere giusto e io faccio il regista isterico un pochettino lei è quella un po' malata io c'ho un po' d'acciacchi c'ho un sacco d'acciacchi ma acciacchi e la sorella c'ha un personaggio invece che non c'ha senso è un personaggio invece che fa tutto è un personaggio che è quel tipo buddista carnico pensa positivo poi è quella che in realtà le danno la parte più sfigata c'ha tutto invece però c'ha un momento delizioso che è l'apertura proprio del musico quando trova il personaggio far papra che esce e fa tre giri sul palco da sola c'è tutto sulle mie spalle il musico del mio ti dico che lì lei rivede davanti ai suoi occhi tutta la sua infanzia anche dall'infanzia e da tutti i problemi non vede l'ora di sentire le mie cose perché no ma perché Marco è di fronte a me sul palco e quindi la prima sera quando abbiamo debuttato mi ha detto questa cosa perché mi guardava per dire vai abbi coraggio di quello che facciamo abbi coraggio pensa che lo poteva fare anche l'arcuri per la parte tua pensa a te pensa a te che non c'ha niente più di me e quindi me l'hanno fatta far me qualcosa dai no vuol essere cattivo e se è mora io bioro è bioro ma lo vedi è un fatto di morire la dobbiamo vincere quando hai in scena è questa no è bravissima sono bravissimi tutti ma lei che sta guardando lei sta guardando a noi come veniamo speriamo perché lei ci farà lo scherzo lei ci farà uno scherzo bellissimo ci stai riprendendo in programmazione al teatro dei satiri fino a fino al primo giugno col caldo ce ne andiamo per poi andare in giro per poi andare in tournée da nessuna parte e l'anno prossimo da nessuna parte no dovremmo forse dipenderlo comunque più ai satiri probabilmente l'anno prossimo si fanno molto bene forse ce ne andiamo al nord tipo dirlo ci abbiamo un po' di spazio abbiamo un giro quando vogliamo divertirci perché noi lavoriamo tantissimo tutte e quattro ringraziando il cielo quando abbiamo un po' che ci mettono un occhio addosso cioè non riprendere le mani perché adesso te lo succede di tutto ma no no lo diciamo per scaramanza e lavoriamo nei nostri lavori quindi per poi rincontrarci dobbiamo aspettare che finiamo i nostri lavori e certo e ci vogliamo divertirci troppe cose troppe 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 però regaliamo un attimo a questi spettatori uno spazio per questo spettacolo perché gli spettatori ci vogliono perché io chiamo ancora tantissimo ma io ho visto c'è la fila c'è la fila le donne le donne sono pure per me è una cosa allusinante insegni 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 ma forse hanno vino ah c'è problema c'è pure un po' di vino giusto che insegni non so è stato raccomandato da chi? va bene la battuta che ci avete la battuta più più brutta no la battuta proprio del personaggio di ogni personaggio non mi toccare la chiave so buono la chiave so buono io forse quindi è andata bene o male non essere critico ma io perché non c'ho niente grazie grazie c'è questo non c'è le telefonate se volete sono tutte le telefonate teatro dei saliti satiri e che cazzo e che cazzo un altro musical mi piace l'italiano sì perché dici che palla un altro musical capito il senso è quello no non c'è gli spettatori mi raccomando